ciao a tutti amici di esperienza mobile siamo in compagnia di asus manpad 8 per la recensione definitiva non ho fatto un box non faccio a volo qua perché non c'è molto a far vedere allora lo apriamo il mio in colorazione bianca ci sono anche tutte queste colorazioni quindi nera rosa e bianca appunto togliamo un attimo il tablet lo mettiamo qui abbiamo il cavetto usb micro usb lunghezza standard alimentatore da 2 ampere con ingresso usb e questa cosa in plastica diciamo che sembra una parte della confezione ma in realtà fa anche da supporto per il tablet una cosa molto interessante che si mette qua e questo ci consente vedere film tranquillamente ovviamente va anche in verticale e quindi insomma una cosa veramente carina simpatica e che non va ad aumentare il costo del tablet allora ecco qua il tablet lo accendiamo il tasto è sulla anzi prima di farci vedere come è fatto appunto lato destro abbiamo accensione spegnimento blocco sblocco bilanciere del volume parte alta ingresso micro usb ingresso per le cuffie e secondo diciamo microfono non c'è il primo visto che non può fare chiamate lato sinistro espansione della memoria posteriormente fotocamera 5 megapixel con autofocus senza flash led logo asus e basta qua abbiamo lato parlante di sistema allora accendiamo appunto le dimensioni sono 21 centimetri di altezza per 12.7 centimetri di larghezza per 9.9 millimetri di spessore per un peso di 350 grammi quindi peso diciamo nella media non si fa sentire più tanto è bene equilibrato quindi bene il display è un 8 pollici come dice il nome hd 1280 per 800 pixel con una risoluzione densità di 190 ppi circa ppi quindi non altissima anche se alla fine comunque su un 8 pollici è ancora sufficiente visto che poi un tablet si tiene a una distanza abbastanza elevata dal almeno una quarantina di centimetri quindi la definizione non altissima non si fa sentire allora partiamo subito con la scheda tecnica abbiamo un ultra display abbiamo un processore quad core rock chip 1.6 gigahertz con gpu mali 400 un'accoppiata che abbiamo già visto sulla chiavetta che ho provato un po di tempo fa la chiavetta per televisioni un gigabyte di ram 16 gigabyte di memoria interna espandibili con micro sd fotocamera da 5 megapixel posteriore giro video in hd e 1.2 megapixel anteriore batteria non removibile da 3950 milliampere la durata dico subito che non mi ha dato nessun problema è buona allora vediamo subito l'interfaccia e parliamo anche un po dell'antenna allora lo sblocco è classico quindi si tira verso basso per sbloccarlo qua abbiamo google now e i widget che si possono ovviamente cambiare nella schermata di blocco qua abbiamo la schermata home che è simile a quella già vista ultimamente sul memopad 7 mi sembra comunque sui ultimi il phone pad anche insomma le icone sono quelle disegnate molto belle a mio avviso la frutta è buona come vedete diciamo che dopo un po cominciano adesso cominciano adesso qualche impuntamento qualche incertezza già adesso anzi qualcosina non si possono aumentare le due le schermate qua come al solito tenendo premuto e tirando su possiamo andare su google now bloccare microfono insomma google search poi abbiamo le applicazioni rapide e l'app drawer dovete qua abbastanza fluido con widget e il link per il market ovviamente si possono anche mettere in ordine alfabetico usciamo qua in alto abbiamo i toggle rapidi come al solito con anche il salvataggio intelligente che più di tanto non serve perché comunque la batteria è già buona abbiamo anche in modalità di tua che cambia un po i bianchi per non fastidire gli occhi slide per luminosità e qualità qua abbiamo le impostazioni dell'audio qua abbiamo il mirroring per la connetta dalla tv ovviamente tv con modo wifi e basta andiamo su impostazioni vediamo le versioni software che è la 4.2.2 jelly bean fluidità che qua discreta qua abbiamo le applicazioni classiche di asus che si possono trascinare sul display quindi calcolato dice ne mancano alcune come sapete che c'è sui altri abbiamo visto del browser e ovviamente si possono anche allargare eccetera qua non l'hanno messo perché si vede che comunque non è abbastanza non è a fluidissimo dire la verità quindi perché il processore è vero che un quad core da 1.6 ma non vi dico assoluto non rende proprio non rende al meglio non è un come si potrebbe aspettare una navigazione fluidissima in generale ma è un po ogni tanto incerto è un po la cosa comunque lo vedremo adesso pian pianino per quanto riguarda l'antenna il wifi prende bene il gps anche ho provato google maps ho scaricato 40 mega di mappe sapete che si può selezionare ho provato in giro bene nessun problema ha preso subito ma anche la connessione 3g strano perché comunque adesso ci sono sempre abituati a modi 3g anche a prezzi a costi abbastanza contenuti qua invece non c'è e basta parliamo di parte multimediale con la fotocamera che è da 5 megapixel senza flash come ho detto allora niente facciamo una foto a caso ok mettiamoci questa ok qua facciamo la foto ecco foto un po lentina ecco ha scattato adesso scusatemi rifacciamo ci mette un po fa la foto come avete visto allora vediamo un po la fluidità in galleria come avete che il display da tiene un po editate anche buon questo è una macro è venuta abbastanza bene queste sono le solite foto di test questo è un video che i video vengono girati in hd ve lo faccio vedere brevemente l'autofocus è buono col tempo è quello che è quindi anche la luce scarse scarseggia c'è lo zoom video in hd con mio pad 8 e c'è la possibilità di fare foto mentre si cattura il video usciamo continuiamo con le foto questa solita foto del giardino avete il pinzo zoom ha qualche problema non segue la perfezione del dito la definizione è così così i colori però sono buoni da dire le macro vengono bene ma ormai le macro vengono bene su tutti i device questo lo dico da quando ho cominciato a fare le recensioni anche qui sta bene bei colori angolo di visione direi discreto non dei migliori che ho visto ma comunque se la cava bene i neri sono abbastanza neri diciamo che non sono nerissimi ma anche qui siamo sopra la sufficienza sicuramente fotocamera con tutte le impostazioni classiche quindi hdr scene iso insomma possibilità di aumentare la dimensione della foto abbiamo qua degli effetti possiamo girare la videocamera ovviamente possiamo mettere degli effetti un po vedete qua l'interfaccia un po' presa la samsung comunque abbiamo hdr panoramica sorriso animazioni emozioni delle magari di intrusi nella foto che non vogliamo e i tocco fotografico insomma le posizioni ci sono e sono anche comunque abbastanza complete e interessanti per quanto riguarda la parte video lettori di serie legge tutto senza problemi diciamo noi usiamo mx player per la comodità video prova mettiamo xp hd landscape questo è un video in full hd abbastanza insomma pesantuccio e come vediamo viene riprodotto senza problemi si vede bene qualche mini lag c'è i colori sono abbastanza buoni forse ogni tanto ripeto non sono accesissimi però comunque si vede tranquillamente senza problemi anche magari un filmetto ci si vede volentieri angolo visione buono luminosità al massimo non altissima il sole si fa dio non che ci sia solo in sti giorni però con tanta luce fuori c'è un po di riflesso ok usciamo parte musicale vedete non è allora c'è qualche incertezza come state vedendo qualche mini lag magari anche il fatto di un gigabyte può penalizzare un po l'utilizzo generale però ripeto non è assolutamente male se avete delle prestazioni al top magari non vi consiglio questo tablet però ripeto per le esigenze medie comunque va più che bene volume massimo volume allora che non è altissimo però la qualità è buona devo dire che non gracchia volume massimo anche per il fatto appunto che non è altissimo però si sente bene anche qua poi dipende anche dalla canzone ovviamente però direi che il volume è premiabile e niente ho finito con la parte multimediale approfitto per vedere che funziona anche il chiavetto otg quindi per collegarci chiavette con hard disk non ho provato potremmo fare una prova in diretta allora colleghiamo intanto la chiavetta ho messo su un film e un file in pdf se riesco a inserirla scusate ho messo l'imbranato io eccoci qua ok l'ho inserita adesso sta lampeggiando come l'ha trovata facciamo apri ovviamente c'è la gestione file di serie hanno film li esegui boh ci hanno buttato su pacific rim come vedete anche la un film pesantuccio pesa 3 giga questo non è in hd ma comunque 3 giga sono impegnativi e si riesce a vedere tutto senza problemi non ci sono rag quindi assolutamente bene da questo punto di vista vediamo invece come si comporta con un file in pdf facciamo sempre questo vabbè è un file mio comunque vabbè vedete non è un file pesantissimo però in generale qualche incertezza anche qua però si riescono a leggere se non altro a definizione nonostante non sia altissima è comunque più che buona e le scritte sono molto nitide potremmo provare al volo con un hard disk magari perché so già che qualcuno mi chiederà allora installiamo questo togliamo la chiavetta e installiamoci un hard disk eccolo qua mettiamo questo non so se lo legge ho qualche dubbio proviamoci comunque tentando a nuoce non mi sei ecco forse si apri ok lo legge ok va bene lo legge quindi anche qua un po' di film per esempio apriamone uno america no vabbè vediamo batman a caso mx player come al solito e vediamo vediamo se va tutto bene ok e vediamo che anche qua si riesce a utilizzare senza problemi quindi bene leggere chiavetta con che avete otg ovviamente modo importante per alcuni disinstalla perfetto stacchiamo il focus giochi l'ho già fatto trovate il link all'inizio magari lo rimette anche adesso i giochi giano anche lì così così ho provato real racing beach buggy diciamo che non se la cavano malissimo e niente proviamo adesso il browser come ultimo test andiamo sul corriere il browser di asus di solito è buono in questo caso non è da meno scusate ho messo il mio qua che ok siamo già in versione desktop molto comodo questo cursore laterale che asus mette sempre sui tablet e sui dispositivi vediamo come la navigazione sia piacevole ogni tanto ripeto il touch non è sempre precisissimo però comunque si può avere una buona navigazione e per chi ama navigare e gli piace questo tablet non vedo perché non consigliarlo sui siti più pesanti qualche mini rallentamento in più però ribadisco non è per niente male benissimo allora niente passiamo alla pagella finale pagella design ho messo 7 e mezzo perché è un po' anonimo obiettivamente le conici non sono molto grandi fortunatamente quindi comunque si tiene bene in mano non c'è niente da dire diciamo che è un tablet standard carino ma sicuramente non spicca per il design particolare materiale ho messo un 7 più 7 e mezzo perché comunque è plastica vedete ok è un antigraffio ma anche qui si sente che in mano che è un po' materiale un po' cheap diciamo fluidità e prestazioni 7 e mezzo in generale avete visto fa tutto poi non lo fa al massimo magari come siamo utilizzati con altri tablet però sicuramente per chi ha le esigenze medie questo tablet non è assolutamente male display 7 e più beh la diagonale di 8 pollici va bene definizione diciamo che è nella media sicuramente rispetto al prezzo non è assolutamente male però oggigiorno troviamo dei tablet su questo prezzo che hanno display full hd quindi lo standard si sta alzando e sarebbe magari il caso di nelle prossime versioni di metterci un full hd in ogni caso è un buon display non è assolutamente male altoparlante 7 e mezzo fotocamera 7 perché boh le foto avete visto con l'hdr vengono un pelo meglio però insomma niente di che batteria 7 e 8 si riesce tranquillamente a coprire la giornata con uso intenso dipende da utilizzo io con uso tranquillo da salotto ho fatto anche due giorni abbondanti qualche filmetto un po di video su youtube insomma mail eccetera eccetera wifi sempre attaccato ovviamente esperienza d'uso 7 e 8 insomma per essere un tablet mi è piaciuto io non uso molto i tablet si li uso per accensirli riprovo una settimana circa 5-7 giorni e devo dire che questo insomma non mi è assolutamente dispiaciuto ho provato anche skype funzionato senza nessun problema e anche facebook ovviamente quindi non mi lamento assolutamente poi poi scheda tecnica 7 e mezzo ok sulla carta sembra molto buono per il processore eccetera però alla fine abbiamo visto che questo processore non è dei migliori se la cava bene ma non garantisce prestazioni magari di un ovviamente di uno snapdragon eccetera neanche comunque di un di un atom di un intel il rapporto qualità prezzo 7 e 8 di destino 2,49 che magari è un po' alto però online ovviamente si trova garanzia d'italia sui 2,10 e 2,20 quindi comunque già meglio 30 euro e meno abbiamo da leggere che avete gli hard disk quindi non vedo perché non consigliarvelo ovviamente se volete spendere 2,60 o 2,70 vi consiglio nexus 7 sempre di asus o l'lg gpad niente voto finale quindi è un 7 e mezzo direi che il 7 e mezzo se lo merito è un 7 e mezzo pieno comunque fa tutto quello che deve fare un tablet lo fa bene la memoria espandibile è già di suo a 16 giga e niente quindi un tablet diciamo che non resterà non verrà ricordato come le migliori tablet magari dell'anno però comunque avere cioè insomma è un buon tablet ripeto un po' ripetitivo ma lo consiglio se vi piace se voi avete 200 euro di budget circa lo potete trovare tranquillamente online magari metto un link in descrizione e lì andate a vedere cosa se c'è ancora disponibile per questo video è tutto ci vediamo nelle prossime nelle prossime recensioni un saluto da Lorenzo per l'esperienza mobile ciao 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 ciao